Adesso trattiamo con Augusto De Santis un altro aspetto legato al rapporto tra economia e crisi ecologica, al rapporto tra grandi interessi e devastazione dei territori. Intanto però facciamo una premessa, Augusto viene da una lotta che possiamo dire è una delle poche lotte, ci succede realmente non tanto spesso, che ha vinto. Che è quella di Ombrina, dove le mobilitazioni, le piazze, sono riuscite a fermare un colosso, un progetto colossale di devastazione del mare Adriatico, una piattaforma petrolifera non indifferente, la più grande se non sbaglio, una delle più grandi del Mediterraneo, forse la più grande, poi ci dirà meglio. Per cui continuiamo anche un po' con, non raccontandocela, ma narrando anche alcune vittorie. E' chiaro che questo si inserisce in un panorama realmente problematico. Prima Monica accennava al fatto che c'è un intreccio tra crisi ecologica, crisi climatica, tra quello che accade in tante parti del pianeta, dove in questo momento non è più possibile la riproduzione biologica della vita e le migrazioni, ad esempio. C'è un intreccio comunque tra quelli che sono gli interessi, gli interessi del potere, della governance e come riducono i nostri territori, ma questo accade a due passi, accade realmente nei nostri territori. Però siamo anche in una situazione, questo credo che sia stato dimostrato ampiamente anche dalle elezioni amministrative, dall'ultima tornata di elezioni amministrative, dove si crea un cortocircuito tra un governo centrale, tra l'elite e i territori. Cortocircuito che poi assume tante varianti delle quali non entriamo in merito stasera. Però siamo comunque di fronte a una situazione in cui bisogna fare presto. Io ricordo sempre, ero piccolo, avevo tre anni, un titolo del mattino, il giorno dopo il terremoto in Irpinia, vicino a casa mia, e c'era questo fate presto. Adesso non dobbiamo invocare il fate presto, ma bisogna fare presto noi. Io passo la parola a Augusto De Santis per entrare un po' nel merito di questo tipo di discussione. Grazie, buonasera. Io mi alzo perché ho una presentazione, parlo in piedi perché non riesco a stare fermo, diciamo così, può partire. Io vengo dall'Abruzzo in primo luogo, racconterò poco della battaglia vinta, purtroppo volevo illustrarvi un po' come abbiamo, insomma, come stiamo lasciando il nostro paese, il nostro bel paese. Infatti ho intitolato la presentazione che l'unica grande opera in Italia, dobbiamo iniziarla a dire, è il risanamento ambientale, perché questa è la vera grande opera. Andiamo avanti. Questi movimenti, diciamo, hanno avuto, dopo un po' di disorientamento, dovuto anche alla crisi delle ex grandi associazioni ambientaliste, per un po' riprendere quello che diceva Antonio, hanno avuto, come al solito ci vuole un innesco, diciamo così, e lo sblocco Italia, no, no, lo rimettiamo, la presentazione, lo sblocco Italia, questo decreto del governo Renzi, diciamo, è stato un momento che ci ha fatto capire che o ci mettevamo insieme, o iniziamo un percorso per stare insieme nelle lotte, oppure, insomma, arrivano le leggi speciali, perché di fatto lo sblocco Italia fa diventare, andiamo avanti, poi lo vedremo, e quindi nasce una piccola campagna, blocca lo sblocco Italia, che poi ha portato a tanti risultati, a conoscenze reciproche, che forse è l'aspetto più importante. Andiamo avanti. Una delle prime cose è stata la questione degli idrocarburi, questa immagine probabilmente a molti di voi già dice qualcosa, sono le concessioni petrolifere dati, i titoli minerari dati in Italia, e quindi come vedete gran parte della pianura padana, dove ci troviamo, è già sotto le mire, è sottoposta alle concessioni dei petrolieri. L'ultimo progetto che ho visto, poi vedremo uno sguardo, adesso in pianura padana, vicino Faenza, una società del Delaware, peraltro, una cosa molto interessante, e noi facciamo fare gli affari sul nostro territorio a questi soggetti, insomma, che vengono sostanzialmente da paradisi fiscali, però questa è quella delle trivelle, diciamo, la mappa delle trivelle, che avete visto per il fatto del referendum e così, però pochi invece sanno che il vero forse obiettivo che è collegato strettamente, è quello di trasformare, andiamo avanti, l'Italia in un hub del gas. Cioè noi abbiamo noi, qualcuno per noi, senza essere stato né eletto per questo, né con un programma elettorale, diciamo così, ha candidato l'Italia a diventare la piattaforma logistica per gli idrocarburi gassosi per l'intera Europa, quindi noi dobbiamo fare da servitori di passaggio del nostro paese, andiamo avanti, e c'è un'immagine che la rappresenta molto bene, peraltro voi siete al centro, io lo dico voi perché penso che molti di voi sono dei centri della panura padana, e il centro di questo grosso progetto intercontinentale, perché il gas dovrebbe arrivare dal lontano oriente, sostanzialmente dall'Azerbaijan, col TAP che dovrebbe arrivare in Puglia, ecco noi una delle più belle spiagge italiane lo facciamo diventare un approdo per il gas dell'Azerbaijan, e però questo gas non rimane lì, viene trasportato e arriva in pianura padana, dove viene stoccato, e oggi vi faccio vedere, andiamo avanti, quelli che sono, secondo me, il centro della politica, anche dello sblocco Italia, il fatto che la pianura padana deve diventare il centro di stoccaggio del gas, dove fermare fin quanto serve, e poi darlo all'estero, soprattutto, con nuovi metanodotti, peraltro il metanodotto che deve passare all'Aquila. Ora, questa immagine l'abbiamo presa in una delle attività che stiamo facendo come campagna nel stoppio della stazione, di autoformazione, questo è Bordolano, vicino Cremona, dove stanno realizzando un'enorme struttura, con i fondi della Banca Europea degli Investimenti, quindi le connessioni sono fortissime con la grande finanza internazionale, e stanno realizzando queste grandi infrastrutture, andiamo avanti, che peraltro, questa è un'altra immagine di uno stoccaggio, questo in Abruzzo, il fiume Tresa, il più grande stoccaggio italiano, infrastrutture di cui nessuno parla, e sono invece infrastrutture strategiche, e con lo sblocco Italia diventano di interesse strategico nazionale, e quindi per realizzarle, potrebbero anche militarizzare il territorio, come è accaduto ad Acerra, con l'inceneritore, che è stato costruito, ricordiamolo sempre, con i mitra spianati, nei confronti della popolazione, perché era diventato di interesse strategico nazionale. Andiamo avanti. Questo è quello che si vede da una cascina meravigliosa del Cinquecento, a Bordolano, adesso si stanno costruendo, queste sono le centrali di compressione, perché il gas deve essere spinto in profondità, in vecchi giacimenti, per essere stoccato, e poi viene estratto in un continuo ciclo di iniezione e di estrazione. Andiamo avanti. Purtroppo siamo in Italia, e che è un paese sismico, questa è la mappa del rischio sismico in Italia, molti di voi immagino la conoscano, siamo il paese europeo più rischioso, e quindi noi, nonostante questo, ci siamo candidati ad ospitare queste grandi infrastrutture. Guarda caso, un'altra lotta in Abruzzo molto sentita, è quella contro il gasdotto che deve collegare il TAP da Puglia fino a Minervio, qui in Pianura Padana, e che passa proprio nella zona viola, sulle faglie, e passa per 20 km pure all'Aquila proprio. Andiamo avanti, lo stoccaggio è in vecchi giacimenti, quindi vengono sfruttati i vecchi giacimenti per iniettare ed estrarre, andiamo avanti, e vi faccio vedere una cosa che, insomma, per me, a me ha sconvolto, che è una prescrizione del decreto, perché purtroppo come attivisti ci dobbiamo impegnare a leggere queste carte, perché nelle carte poi troviamo anche il modo per contrastarle, e questo passaggio è in gazzetta ufficiale, è molto importante, queste poche righe, perché dice che dove ci sono gli stoccaggi, io ti autorizzo, però qualora la sismicità indotta, com'è la sismicità indotta? Quindi si ammette per la prima volta in un documento ufficiale che l'attività antropica può causare terremoti, quindi c'è una persona che iniettando può scatenare un terremoto, ma non si, il ministro, questo è il decreto di autorizzazione, firmato dai ministri, e dice che qualora tu fai dei sismi e questo sisma superi magnitudo 3 della Richter, tu dovrai fare in modo che le attività di iniezione e di estrazione dovranno essere ridefinite in modo tale da riportare la magnitudo massima sotto al valore di 3, cioè la manopola del terremoto. Questo è scritto, quindi stiamo parlando che voi in pianura padana, noi in pianura padana, dovremmo essere sottoposti a un rischio per far guadagnare qualcuno, magari in Delaware, con un terremoto e qui manca una cosa peraltro che secondo me è incredibile, a parte la manopola del terremoto che da un budista scientifico è una follia, ma che cosa manca? Che cosa manca secondo voi? Che dice qualora superi 3, non dice di quanto, cioè io autorizzo una cosa che potrebbe essere 5, 4 e mezzo della Richter sono i primi morti per paura, per infarto, a 5 ci sono le persone che si buttano all'Aquila è successo, le persone si sono ferite buttandosi dalle finestre durante il terremoto, con 6 e l'Aquila 300 morti, dove la mettiamo la sticella? Non l'ha messa il ministro, però l'ha autorizzato e guardate possono arrivare i terremoti anche di quei gradi della Richter e quindi sul nostro territorio italiano per far guadagnare qualcuno ci siamo candidati, qualcuno ci ha candidato a ospitare queste grandi infrastrutture molto pericolose e io dico sempre andiamo avanti che forse dovevano metterci insieme anche la macchina del tempo perché per portare in vita quelli che magari ci hanno rimesso le penne per queste scelte folli dei nostri governanti. Andiamo avanti. Guardate, è interessante il parallelismo con il trasporto elettrico, cioè con Terna. Terna, le persone pensano che gli elettrodotti sono ancora dello Stato, diciamo così, Terna è un S.P.A., adesso ci sono i cinesi nel capitale tramite cassa di posti dei prestiti, quella del lab del gas e che dice Repubblica? Dice l'Italia deve diventare lab dell'energia elettrica, cioè quindi noi ci candidiamo il nostro paese a ospitare grandi infrastrutture di trasporto che non danno energia a noi come gli stoccaggi, che uno dice vabbè, io accendo pure io il fornello. No, non servono a noi, noi ne abbiamo a sufficienza. Il consumo di maritano in Italia è crollato del 30% in 15 anni, ebbene però ci dobbiamo beccare tutte queste infrastrutture che non sono per noi. Andiamo avanti, peccato che le paghiamo con la nostra bolletta e questo è un fattore di estrazione di ricchezza dal popolo, diciamo così, per trasferirlo ai soggetti che fanno affari non per noi, senza darci servizi. Questa è la, voi pagate la bolletta come tutti noi, quella in blu è la parte che va a pagare gli elettrodotti e quindi se tu ti chiami Terna ovviamente che fai e come l'oste cerchi di vendere il vino loro cercano di venderti elettrodotti anche se non servono e infatti in Abruzzo abbiamo un caso un'altra lotta purtroppo che abbiamo perso andiamo avanti che però insomma è stata fortissima Silvia Ferrante forse qualcuno di voi hanno visto questa foto questa attivista che è stata accusata da Terna e hanno chiesto 16 milioni di euro a questa famiglia a lei in particolare perché si è opposta senza violenza peraltro e adesso ha vinto perché Terna è dovuta tornare indietro e gli hanno fatto 24 cause diverse peraltro per impegnare e lei tutti i giorni va al tribunale con gli avvocati un'altra persona di cui si parla poco che è un tecnico Antonio Di Pasquale lo voglio ricordare che lei ha sfondato sia perché è bravissima sia perché è anche una mamma quindi insomma c'è Antonio Di Pasquale che è meno conosciuto lui ha avuto 45 milioni di euro di cause e non gliel'hanno ritirate per cui sta tutti i giorni in tribunale a combattere con questa ormai multinazionale possiamo dire andiamo avanti mi sembra che siamo molto vicini a questo andiamo avanti lo sblocco Italia parla di inceneritori andiamo avanti fa un elenco di inceneritori che diventano di interesse strategico nazionale quindi tutti gli inceneritori in Italia quelli esistenti diventano di interesse strategico nazionale quindi voi immaginate che vuol dire solo per i rinnovi delle autorizzazioni per esempio hanno una via spianata quindi rimarranno per decenni in questi territori soprattutto al nord al sud che non abbiamo inceneritori che dice lo sblocco Italia ci impongono una quindicina di inceneritori perché insomma rimancano e quindi ve li dobbiamo fare andiamo avanti io faccio vedere penso che dobbiamo fare comunicazione perché ho messo la foto di Murigno perché non lo diciamo sempre dovevamo accusare il governo di non essere in grado di fare l'allenatore cioè Renzi andiamo avanti in base alle norme europee ci sta facendo giocare scusate non si legge però nella gerarchia dei rifiuti l'unione europea non noi quindi insomma dal 2008 ci dice che l'incenerimento è al quarto posto nella gerarchia dei rifiuti quindi prima di pensare a fare inceneritori tu dovresti fare prevenzione della produzione dei rifiuti non produrli la seconda cosa riutilizzare i materiali le cose secondo il riciclo quindi produrre un pile dalla plastica poi l'incenerimento che chiamano l'incenerimento non chiamano termovalorizzazione questa è la direttiva comunitaria e quindi praticamente Renzi ci sta facendo giocare in un campionato a 5 squadre perché all'ultimo c'è lo smaltimento in discarica allora è come dire che prima del campionato fai la conferenza stampa Murigno va là e dice scusate ci sono 5 squadre io voglio arrivare quarto questo sta facendo Renzi sugli rifiuti ma perché? perché ci sono 5 multi utility che devono fare che a 2 A le possiamo nominare Marcegaglia che vendono inceneritori e vogliono far diventare gli inceneritori l'imbuto dove tutto il mercato dei rifiuti va a finire in poche mani e gli inceneritori chiaramente per essere ammortizzati devono campare 20-30 anni ed essere alimentati per quello non si fa raccolta differenziale andiamo avanti che devo andare più veloce fortunatamente questa primavera è stato un fiorire di manifestazioni da Lanciano in Abruzzo fino a Colleferro in Lazio a Brescia una meravigliosa manifestazione con 15.000 persone a Firenze decine di migliaia di persone un mese fa andiamo avanti è bello un visit in fiorentino diciamo così ora tutte queste opere a me piace fare gli interventi anche dando spero alcune indicazioni poi per tornare a casa e magari con un po' di curiosità andate a vedere come si possono anche bloccare avere informazioni la valutazione di impatto ambientale la valutazione di impatto ambientale no no andiamo prima la valutazione di impatto ambientale è il momento dove molto spesso i comitati o i cittadini iniziano a conoscere un progetto questo è il sito del ministero dell'ambiente vi invito a visitarlo delle valutazioni di impatto ambientale quello che in home page adesso proprio oggi è proprio quell'impianto quel pozzo del Delaware che vogliono fare a Faenza vedete lì quel puntino ora lì vi potete scaricare tutta la documentazione potete leggere e noi facciamo in continuazione questo siamo molto noi abruzzesi in questo forse siamo forse fin troppo siamo immersi nelle carte andiamo avanti però è interessante perché leggiamo questi vi faccio vedere degli esempi che uno pensa sono fatti da professoroni mega invece poi leggono delle stupidaggini incredibili questo è un pozzo nelle Marche in collina e dicono nel piano di sicurezza dicono che in caso di incidente di blow out eruzione in testa pozzo bisogna avere l'evacuazione sanitaria i mezzi aerei i mezzi navali in mezzo alle colline rischio radioattività operatori subacquei cioè voi immaginate questi qui con la muta nelle vigne o negli oliveti di cui prima ma andiamo avanti perché questo è il documento ufficiale depositato dal Ministero dell'Ambiente a un certo punto questa azienda inglese questi petrolieri inglesi dicono che in caso qualora ci sta un incidente che esce dal cantiere e c'è un incendio enorme che può avere conseguenze gravi dal punto di vista umano o ambientale o tecnico e che potrebbero influenzare negativamente l'immagine della società e dell'attività presso l'opinione pubblica cioè mentre la gente sta morendo magari questi pensano andiamo a cose meno più allegre andiamo avanti qui è Eni un pozzo in Basilicata che adesso è in valutazione di impatto ambientale quindi dobbiamo opporsi allora uno si legge queste cose qui l'Eni ha avuto sfortuna perché io sono ornitologo e allora ho letto per voi chiaramente negli studi di impatto ambientale si scrivono quali specie ci stanno gli impatti e in questo caso scrivono all'occo l'allocco in una pace notturno per voi quello è un allocco giusto? quello è un allocco di Lappogna che come dice il nome in Basilicata non si è mai visto evidentemente questo scienziato che ha fatto questa cosa gli serviva una foto ha messo su Google e ci ha messo la foto anche l'ornitologo qui attivista si prende proprio e se lo legge tutto questo questo compendio di scienza andiamo avanti e sfortuna che la sfortuna tieni io sono specialista di quella specie lì che si chiama Gracchio Corallino lo so che vi Gracchio Corallino è Gracchio Corallino però è una specie bellissima scusate meravigliosa solo mia moglie più e il Gracchio Corallino è un corvile rarissimo tutelato ai massimi livelli quindi dobbiamo a livello europeo e che allora io ho letto ci stanno i Gracchio Corallini e che dicono che a un certo punto non lo leggiamo tutto due breve frasi brevi frasi uno dice il Gracchio Corallino ha spesso il becco di color rosso spesso no Corallino cioè ha sempre non è un camaleonte voglio dire forse quando intinge il becco nel petrolio diventa blu ma insomma poi dice migra in branchi branchi gli uccelli in branchi di 400 o 600 individui va bene che sto a corvi che si contano ma a parte che non migra è uno degli animali più stanziali della faccia della terra non migra mai però vabbè però poi si conta e dice siamo 504 non ci muoviamo perché dobbiamo essere o 400 o 600 ma la cosa più bella è quanto sulla prole il nido qua dice che la femmina cova le uova e vi giuro c'è scritto entrambi i coniugi allevano la prole c'è scritto qua giovanardi giovanardi sarebbe il nostro alleato sarebbe vogliamo mettere i diritti anche alle coppie dei gracchi ai coniugi dei gracchi e qua scatta la curiosità andiamo avanti di dove prendono queste cose chiaramente è un copia in colla allora l'attivista che fa mette gracchio corallino coniugi in google per sapere la fonte diciamo così e non è finita qui perché esce la valutazione di impatto ambientale lo studio di impatto ambientale della seggiovia di Campi Imperatori in Abruzzo cioè altri consulenti avevano copiato da qualche altra parte la stessa cosa e l'avevano messa tal quale nello studio impatto ambientale della seggiovia andiamo avanti quindi secondo progetto quindi quello a sud della leni saliamo a nord della seggiovia continuiamo andiamo avanti altre indagini andiamo avanti esce fuori lo studio di impatto ambientale andiamo avanti in Lombardia di un impianto eolico dove hanno copiato la stessa cosa andiamo avanti e ho trovato la fonte dovrebbe essere il sito www.cilentodamare.it allora voi direte chiaramente io cerco di essere leggero in queste cose poi uno deve pensare che sono impianti che incidono sulla vita delle persone e dell'ambiente andiamo avanti allora uno dice ma da questi studi da chi vengono valutati al Ministro dell'Ambiente chi sono i nostri interrogatori e qui divento più serio perché queste persone quell'elenco lì è la commissione valutazione di impatto ambientale il sito del Ministero dell'Ambiente valutano la TAV valuteranno l'autostrada cispadana che vogliono realizzare spendendo miliardi proprio in questi territori più o meno allora uno l'attivista secondo me noi dobbiamo riprendere bene a fare inchiesta perché lo possiamo fare tutti chiunque lo può scoprire bene noi ci siamo messi a studiare il curriculum di queste persone ne prendiamo uno a caso Vincenzo Luggero è l'ultimo uno schiaccia lì si prende e andiamo avanti esce il suo curriculum Vincenzo Luggero nato a Gioia Tauro professione è scritto all'albero dei dottori commercialisti che uno dice valutazione di impatto ambientale ingegneri biologi no commercialista c'è scritto scusami Monica c'è scritto a un certo punto che è membro componente del collegio sindacale collegio scritto con due G vedete allora uno quasi insospettisce mette Vincenzo Luggero inchiesta perché un attivista parte con un po' di pregiudizio diciamo così e che gli esce andiamo avanti la relazione di indagini alla prefettura di Reggio Calabria questo è online in cui dedicano e hanno sciolto il comune di Gioia Tauro grazie anche al paragrafo andiamo avanti di questo Vincenzo Luggero e c'è scritto Vincenzo Luggero commercialista imprenditore e fortemente sospettato di essere asservito alla cosca dei piromalli mole una nota cosca ora ci sono anche i lari il servizio pattuglioni lo ha beccato insieme con gente di malaffare di ogni tipo assegna vuoto si accompagna inoltre anche il testo è bellissimo secondo me da legge e poi dice a calico di Ruggero Vincenzo al caseriale o giudiziale figurano due condanne per sottrazione all'accertamento al pagamento dell'accisa sugli oli minerali beh questa persona uno ci vide fa parte della commissione di via da dieci anni cioè lui ha messo la firma sulla tab però con questa cosa non se ne parla molto cioè c'è qualcuno che la prefettura di Reggio Gabri dice che il vicino ha servito alle cosche e sta dentro al ministero dell'ambiente in una posizione fondamentale dove è l'imbuto dove passano tutti i progetti dalla tab dalla Cispatana i pozzi petroliferi gli stoccaggi gas però questo noi come movimenti non siamo riusciti a parte fare delle denunce interrogazioni parlamentari non abbiamo fatto una campagna per dire questa gente deve andare a casa l'unica cosa che hanno detto è che effettivamente facciamo una nuova commissione ancora non stanno andiamo avanti ombrina l'aveva firmata lui andiamo avanti sono usciti l'articolo di giornale passiamo al buco nero dei rifiuti in Italia questa non la conosce nessuno è la discarica più grande del bacino del Mediterraneo micro rosa a brindisi 50 ettari che sembra uno ci va sembra una salina in realtà sono tutti rifiuti tossici è impressionante camminarci abbiamo fatto un gemellaggio con l'abruzzo peraltro perché pure noi abbiamo una piccola discarica di qualche ettaro andiamo avanti Dramontesi però andiamo al nord perché se no abbiamo sempre l'immaginario il sud che è stata la pattuniera invece andiamo al lago maggiore diciamo questo è il lago maggiore tutti lo conosciamo bellissimo vacanze andiamo avanti qualcuno pensa di mangiarsi i pesci peccato che questi pesci andiamo avanti ogni tanto hanno un po' di problemi infatti non si possono mangiare ufficialmente io cerco di essere appunto leggero ma questo è il grafico che vi fa vedere la concentrazione di mercurio in quei pesci per quello non si possono mangiare la linea rossa andiamo prima 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 la linea rossa è il livello consentito come vedete tutti i campioni sono tutti ben oltre i limiti di legge stiamo parlando di dieci volte i limiti di legge quindi non ve li potete mangiare quindi noi abbiamo trasformato il lago maggiore in un posto che non possiamo neanche pescare e con tutte specie inquinatissime andiamo avanti perché? perché il lago maggiore è uno dei siti nazionali di bonifica non lo sa nessuno praticamente cioè abbiamo trasformato il lago maggiore in uno dei siti più inquinati d'Italia e d'Europa questa è la mappa dei siti nazionali di bonifica come vedete al nord ce ne sono molti molti siti sono anche sottovalutati non ci sono in Italia in realtà sono censiti si parla di 15.000 siti contaminati questi sono la punta diciamo così dell'iceberg andiamo avanti facciamo una breve carrellata Pieve Vergonte chi è inquinato il lago maggiore in un'azienda che sta in una valle meravigliosa io recentemente purtroppo quando vado in giro con gli attivisti mi dico dove vuoi andare ci portiamo al lago maggiore e io ho chiesto andiamo a Pieve Vergonte quello mi ha detto sei pazzo perché in realtà vai a visitare questi posti della fine dell'industrializzazione italiana che è l'industria che non vuole pagare il prezzo di questa storia a Pieve Vergonte è l'unico posto in Italia dove si sta bonificando in realtà stanno facendo la discarica in situ perché è meglio non muoverla tutta sta roba ha inquinato tutto il lago maggiore di DDT di Mercurio e andiamo avanti perché stanno bonificando perché è l'unico dei pochi posti dove Lenin è stato condannato a 1,9 miliardi non milioni miliardi di euro di danni solo perché andiamo avanti si sono un po' scusate il termine incazzati gli svizzeri perché il lago maggiore è confinante e siccome i pesci poi vanno pure da loro si sono un po' arrabbiati hanno detto signori qua dovete risolvere questa cosa però il lago maggiore quindi sarà inquinato nei prossimi decenni se non centinaia di anni perché il DDT non lo toglie manco a pagarlo andiamo avanti e Trieste la feriera di Trieste l'ilva del nord queste sono le immagini di questi giorni a Trieste ed è incredibile per me uno dei posti io sono rimasto sconvolto da Trieste tant'è vero che mi sono attivando anche su Trieste dando un po' di mano per quello che posso fare andiamo avanti questo è quello che si vede dalla feriera di Trieste andiamo avanti ogni giorno le persone che hanno dei balconi dei terrazzi io l'ho visto fare ti regalano anche il stacchetto dopo la visita ogni giorno tolgono dai 60 a 100 grammi di polveri cancerogene dal loro terrazzo voi morti in quantità quasi l'intera Trieste è il sito nazionale di bonifica andiamo avanti non ci si può avvicinare neanche più ai giardini notizia di un mese fa per la quantità di idrocarburi policici in centro urbano sto parlando non nella fabbrica andiamo avanti loro gli attivisti di Trieste non sapevano neanche perché giustamente stanno a pensare alla feriera che c'è 13 ettari di una discarica delle più tossiche del mondo secondo me la via Herrera la discarica di via Herrera dove per decenni hanno buttato direttamente in mare molto preveniente da tutta il nord d'Italia che quindi non andavano in campagna andavano a Trieste e questa è la roba che buttavano adesso lì ci vedete gli alberi ci vedete 20 metri di rifiuti per 13 ettari andiamo avanti non lo leggiamo questo è l'elenco degli inquinanti oltre i limi di legge c'è tutto il pH hanno fatto un buco hanno preso l'acqua il pH è uno c'è tutto cioè guardate i metalli antimonio cadmio cobalto nichel stagno mercurio rame piombo zingo cromo esavalente tutto il clima di legge DDT DDEDD quindi pesticidi idrocarburi leggeri idrocarburi pesanti fitofarmaci diossine beriglio scusate non lo facciamo tutto perché è un elenco infinito ebbene è privo di semi di sicurezza e non si sa da dove partire adesso hanno presentato dopo che abbiamo fatto una denuncia specifica solo per mettere in sicurezza 27 milioni di euro però l'autorità portuale dice io non ho i soldi quindi andiamo avanti andiamo avanti questo dove prendete queste informazioni chiunque lo può fare il sito del ministero dell'ambiente bonifiche ci sono i verbali questi sono tutti i siti inquinati più importanti più importanti più drammatici andiamo avanti dove uno si può leggere a Trieste hanno fatto una grande manifestazione due grandi manifestazioni una a gennaio una a maggio con migliaia di persone per chiedere la chiusura della ferriera andiamo avanti passiamo a Vicenza questo forse lo conoscete questo caso dei perfururati bene quasi tutte le falde del Vicentino ma non solo sono inquinati da queste sostanze che sono interferenti in drogrini oltre le mie legge però io dico quante manifestazioni sono state fatte sotto l'amiteni perché questi soggetti devono pagare qualcosa o no perché io credo che noi come attivisti dobbiamo porci il problema di come fare insomma anche reclamare la pulizia di queste cose andiamo avanti oppure passiamo a Brescia perché ho messo questa foto perché Brescia ha un collegamento col Vietnam perché il Napalm ha causato grandissimi inquinamenti inquinamento da PCB la gente orange in particolare e i livelli di inquinamento del Vietnam sono quasi meno di una città grande del nord Italia andiamo avanti Brescia dove anche lì non si può questi sono i cartelli dove c'è scritto non toccate l'erba cioè siamo arrivati al punto che in Italia Brescia un sito UNESCO peraltro non si può toccare l'erba dei parchi è tutto inquinato e andiamo avanti questi sono gli ultimi dati e si fa la caratterizzazione e la cosa incredibile è che come le tessere si va sempre cioè è inquinato ok andiamo avanti è inquinato e adesso stanno a 10 chilometri e uno dice all'undicesimo non c'è inquinamento non si sa perché sono arrivati a 10 chilometri probabilmente saranno inquinati anche a 20 30 chilometri i livelli di inquinamento di PCB di diossine a Brescia sono tali che dovrebbero essere evacuate le persone alcune decine di migliaia di persone che vivono tutti i giorni in questa situazione andiamo avanti 15.000 persone l'hanno ricordato qualche mese fa andiamo avanti Mantova sito UNESCO noi siamo riusciti a trasformare in un sito nazionale di bonifiche Mantova i lachi di Mantova sono inquinatissimi perché ci hanno fatto una raffineria e la falda è così inquinata che il primo metro e mezzo della falda si chiama non più falda di acqua ma surnatante che cosa è questa parola surnatante sono solventi sostanzialmente idrocarburi che sono talmente densi che sono più idrocarburi che acqua sostanzialmente per un metro e mezzo della falda per ettari e il mincio che passa lì viene inquinato costantemente perché le attività di prevenzione da anni non funzionano il ministero lo sa però devo dire che non è che c'è una forte reazione come si dovrebbe a far pagare a questa gente miliardi che stiamo parlando di miliardi di danni all'ambiente e alla salute andiamo avanti c'è un processo c'è stato che non si è concluso molto ma andiamo avanti Trento in onore di Antonio la Sloi bene Trento funziona tutto tranne le bonifiche da 30 anni però si sa da 10 anni 15 anni la Sloi è abbandonata sito nazionale bonifica anche esso andiamo avanti leggiamo fino a 10 metri di profondità inquinato da piombo tetratile migliaia di volti di legge andiamo avanti certe volte mi contattano ci contattano persone che dicono c'è un sito inquinato dove c'è tre volti di legge io reagisco ormai a Micorosa scusate la parende a Micorosa quella discarica grande la falda è inquinata per una sostanza 198 milioni di volte in limite di legge non lo diciamo noi lo dicono i dati ufficiali a Trento siamo 20 mila volte in limite di legge andiamo avanti ha inquinato tutte le rogge di Trento sono tutte inquinate questa mappa dell'ISPRA questa mappa questo grafico dell'ISPRA vi fa vedere in rosso i pozzi inquinati come vedete la Lombardia ha più del 55% delle acque sotterranee c'è l'acqua che sta qua sotto inquinata oltre i mili di legge molto sono i pesticidi il venero sta un po' meglio forse perché comunque non si fanno non si cerchi glifosate per esempio perché se no avremmo valori molto più elevati andiamo avanti e andiamo a concludere perché in questo macello uno si aspetterebbe un obiettivo di bonifica di risaniamento e Renzi ci mette questa persona con uno sguardo volitivo si chiama Gaia Checucci perché dobbiamo conoscere gli avversari Gaia Checucci è la nuova responsabile del settore bonifiche e acqua dell'intero paese non so quanti di voi sapevano di questa cosa è una nomina di pochi mesi fa bene andiamo avanti c'entra con l'ultimo discorso che volevo fare sull'acqua sul mio voto va rispettato perché questa insomma è questo tecnico guardate qui se mettete Gaia Checucci vi esce fuori andiamo avanti il suo appello per il no al referendum dell'acqua del 2011 cioè era per la privatizzazione dell'acqua e anzi faceva campagna addirittura e questa qui adesso governa tutto il settore idrico dell'intero paese e delle bonifiche non vi racconto tutta la storia però sostanzialmente lei faceva parte addirittura abbiamo scoperto e abbiamo denunciato che sedeva senza averlo detto nel suo curriculum nel consiglio amministrazione di intesa retina scarla che è legata diciamo così a Monte Paschi Etruria a quel giro là diciamo così per conto del privato cioè di Suez andiamo avanti quindi hanno messo questa è la reazione che mi viene quando racconto questa cosa di Gaia Checucci andiamo avanti e c'entra col fatto che proprio in questi giorni in Parlamento si sta discutendo un decreto che si chiama Madia vi chiedo un'ultima attenzione almeno per il mio intervento noi abbiamo votato nel 2011 abbiamo rinnegato la privatizzazione dell'acqua abbiamo detto che sull'acqua non si devono fare i profitti adesso il PD con la Madia con il decreto Madia vuole rintrodurre la privatizzazione ma prima di questo fa una cosa ancora più grave a mio avviso è che il decreto è sui servizi pubblici locali qui sull'acqua trasporti e così via bisogna privatizzare tutto chiaramente ma loro dicono che i servizi pubblici devono agire devono essere fatti non per soddisfare i diritti ma per soddisfare i bisogni dei cittadini e guardate che questo è un cambiamento radicale perché il diritto tu hai un diritto all'acqua io Stato te lo devo garantire in qualche modo ti do 20 litri d'acqua in qualche modo mi organizzo ma se hai un bisogno io non te lo devo garantire tu paghi se paghi soddisfi il tuo bisogno se non c'hai soldi pazienza voglio dire farai qualcos'altro voglio dire e questo è un salto epocale di livello andiamo avanti ovviamente loro nelle tariffe mettono alla fine che bisogna inserire nelle tariffe la remunerazione del capitale proprio lo dicono espressamente altro che il referendum andiamo avanti diciamo che questo è l'atteggiamento che hanno andiamo avanti e il nostro atteggiamento certe volte viene voglia di reagire diciamo così non vi preoccupate siamo non violenti stavamo potando i meli per l'orso quindi stiamo facendo una cosa poteva starci il petroliere sotto diciamo così noi siamo un paese in onore di Monica Ostia insomma abbiamo queste meraviglie quindi noi siamo anche spero lungimiranti nel nostro DNA ce l'abbiamo insomma questa storia andiamo avanti quindi abbiamo organizzato stiamo organizzando e vi chiediamo una mano alla campagna Stop Devastazioni c'è un sito internet che potete consultare dove non solo consultare abbiamo organizzato recentemente anche l'autoformazione che a mio avviso è fondamentale per noi attivisti che dobbiamo formarci tutti da chi ha forse più esperienza a quelli che vogliono iniziare e hanno passione per il nostro bel paese andiamo avanti questo è il nostro sito andiamo avanti la penultima immagine è la battaglia vinta non ombrina 60.000 persone al lanciano abbiamo cacciato i petrolieri tutti assieme un'intera comunità in Abruzzo si è mossa dai centri sociali ai preti a chiunque alla parte produttiva agli agricoltori a suo zio che mi ricorda nonostante fosse di un'altra visione politica diciamo così e quindi noi è bellissimo poter e questo lo voglio trasmettere poter parlare di questo progetto al passato era il progetto ombrina era un progetto schifoso e l'abbiamo fermato andiamo avanti perché noi il nostro pianeta lo dobbiamo lasciare così grazie 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 grazie